Maestro Tano Fattorello, esperto di arti marziali, non solo in palestra ha insegnato quest'anno ma anche a scuola direttamente a Luigi Amabile. In diverse scuole del comprensorio. Adesso siamo qui perché abbiamo chiuso il corso presso l'Istituto Tecno Commerciale Luigi Amabile. Il corso è il progetto che portiamo ormai da anni avanti, il progetto si chiama Imparato a proteggerti ed è rivolto alle alunne e alle insegnanti. È un progetto devoluto alla difesa personale femminile. Quante ragazze hanno partecipato? Circa oltre 20 ragazze, si sono alternate in varie sedute. Il corso è cominciato con circa 30 ragazze, però alla fine sono arrivate oltre 20 ragazze che hanno superato il test e sono state qualificate con i dovuti attestati. Sono ragazze che se qualcuno si avvicina si rischia? Non dico che siano già in grado di potersi difendere, però perlomeno hanno un approccio sull'autodifesa, una sicurezza in più che effettivamente abbiamo riscontrato era carente presso il gruppo di ragazzi, così come tante. Tant'è che molte di loro seguiranno il corso, poi nelle nostre strutture ci seguiranno dove noi operiamo. A quanto pare non solo le ragazze hanno partecipato a questo corso? Gli insegnanti, ormai non è una consuetudine, ogni anno abbiamo buon riscontro anche da parte degli insegnanti, ogni anno ci ripropongono il corso, ogni anno fa sempre meglio. Sono rifatti anche i genitori che hanno avuto modo di assistere all'apprendimento delle loro figliole. Insomma un corso che ha riscosso un grande successo, non a caso la presida a quanto pare già vi ha prenotato per il prossimo anno. Sì, sì, sembra proprio di sì. In effetti quest'anno la preside è cambiata ed è la signora Pappalato Andonella, la quale fin dall'inizio ha voluto che ci fosse uno spazio libero per l'ITC, perché noi operando in diverse scuole abbiamo dovuto dare precedenza a chi ci aveva già precettato, ma siccome con l'ITC abbiamo un rapporto di lunga data abbiamo comunque accontentato il favorito. Altro dato di merito è l'insegnante Virginia Gengaro, la quale fermamente è creduta fin dal primo momento, ormai sono cinque anni come dicevamo, in questo progetto è fermamente sempre più entusiasta perché poi i risultati si vedono.